Grazie a tutti. La prossima immagine ci conferma di fatti i cieli sereni o poco involosi un po' dappertutto da nord a sud, isolatissimi temporali di calore sulle aree più interne dell'Appennino meridionale e Alpi settentrionali. Il caldo si farà sentire, in particolar modo al nord valori fino a 35-36 gradi, punte di 36-37 gradi anche sul medio tirreno. Dettagli maggiori scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo visitando gli articoli sul nostro sito web.